Sono contento di confermarvi e lo ringrazio che il Ministro dell'Economia Gualtieri oggi, mi ha appena confermato lui, ha firmato i due decreti. Sia quello per il bonus, quindi 230 milioni per tutti i lavoratori sportivi che non avevano ancora ricevuto marcio e che riceveranno automaticamente anche aprile e maggio e poi il sostegno a fondo perduto per tutte le ASD e le SSD. Lo ringrazio veramente tanto. Grazie Ministro. Ringrazio il Ministro Spadafora, siamo impegnati a sostegno del mondo dello sport.